Allora, hai provato tantissime cose online, hai provato a guadagnare online, a mettere in piedi i business online, a creare il tuo libro, l'hai messo su Amazon e non ha venduto niente, magari l'hai creato con chat GPT, con l'intelligenza artificiale, perché hai trovato un'opportunità di poterlo scrivere gratuitamente, senza sforzo, e pubblicarlo su Amazon, ma non hai fatto vendite, succede, hai creato un cash cow channel, hai creato i video, li hai presi, hai fatto scrivere all'intelligenza artificiale il testo, poi con flyki.io, un altro tool, hai messo le immagini, la voce, il voice over e tutto quanto, hai iniziato a pubblicare video, ma fai poche view e non riesci a monetizzare, ci sta, hai creato un corso, l'hai messo su Udemy e non lo riesci a vendere, ci sta, hai messo tutti i tuoi appunti dell'università su DocSeed e non riesci a venderli, ci sta. Questo video per tutti quelli che si stanno cimentando nel business online, ho fatto tutti gli esempi di business che io suggerisco anche qui in questo canale YouTube e quindi ti invito, se è la prima volta che mi guardi, di iscriverti al canale se ti interessa guadagnare online, anche perché questo video è importantissimo, vi spiego perché molte persone non riescono a guadagnare online, mentre altre persone sì, quindi andremo a vedere che cosa c'è dietro il successo di un business online, quindi importantissimo iscrivetevi al canale, per chi non mi conosce, io sono Michele Maralino, faccio un business online alla fine del 2016, ho un altro canale YouTube più grande di questo, dove faccio musica perché sono un musicista, ho aperto la mia casa discografica all'ufficio stampa, lavoro nella musica, promuovo band e praticamente alla fine del 2016 tutte queste mie competenze le ho messe online insegnando ai musicisti a fare il mio stesso percorso, quindi ho imparato a vendere video corsi, a creare consulenze, a crescere su YouTube, a vendere con YouTube e in questo canale YouTube Michele Maralino Business condivido tutto gratuitamente, è pazzesco, video corsi, andatevi a vedere le playlist, c'è tantissima roba per guadagnare online, anche cose che hanno tantissimo valore anche a livello di marketing, anche di gestione del patrimonio, di investimenti, guardatevi i video, iscrivetevi al canale e supportatemi perché c'è tanto un valore gratuito, perché ancora non ho venduto un cavolo di prodotto mio per questo canale YouTube, è imbarazzato e l'unica cosa sono le consulenze che stanno andando molto bene e che mi piacciono, se volete essere seguiti da vicino da me c'è la mia mail in descrizione, mi contattate e organizziamo una consulenza. Ragazzi non è gratuita la consulenza, lo dico sempre, per chi è veramente interessato a fare sul serio posso capire in base appunto alle chiacchiere che facciamo in consulenza, a quello che mi dite, a quello che avete in testa, posso anche salvarvi da business fallimentari e indirizzarvi nei migliori business per voi, per via della mia esperienza, ho il quadro della situazione generale, so cosa funziona e cosa non funziona in diverse nicchie, quindi se volete fare le cose sul serio mandatemi una mail, la mail è sempre nella descrizione dei video, scrivetemi e organizziamo una consulenza. Allora ragazzi, perché le persone falliscono con i business online? Questo è l'argomento di oggi, abbiamo già trattato questo argomento, il problema delle persone è che cercano la scorciatoia, ok? State attenti perché è un atteggiamento veramente umano, ok? Tutti pensano di fare soldi in modo facile, ma non è facile, un business online è terribilmente difficile. E adesso questo è un problema più accentuato, perché c'è l'intelligenza artificiale e ci sembra a tutti che è tutto facile, è tutto molto più semplice, con l'intelligenza artificiale noi guadagniamo. No ragazzi, c'è l'intelligenza artificiale, ci aiuta, ma dobbiamo metterci la testa, dobbiamo fare le scelte giuste, dobbiamo abbracciare la complessità. Facciamo un esempio per farvi capire perché, qual è l'approccio sbagliato in un business online? Facciamo il caso che voi mazzichate YouTube, avete visto canali YouTube dove si parla di business, avete visto il mio canale YouTube, anche vi siete iscritti, avete fatto benissimo, e avete visto che io ho cominciato a fare video. Tutorial anche su come creare video per Cash Cow Channel, ok? Per chi non sapesse cos'è un Cash Cow Channel, è un canale YouTube costruito senza metterci la faccia, con video montati in maniera molto semplice. Ci sono delle librerie intere di video che potete utilizzare, potete mettere il voice over, adesso con l'intelligenza artificiale create il testo, praticamente sono quei video che non hanno una persona che parla, ma c'è una voce fuori campo che spiega determinate cose, e delle immagini che si susseguono. Questa cosa ve la può fare in automatico un qualsiasi tool di intelligenza artificiale, se vuoi approfondire tutto questo iscriviti al canale, mi raccomando. Bene, il punto è, ok, l'approccio sbagliato è, vabbè, faccio un Cash Cow Channel dove spiego, cercate magari una nicchia che è profittevole. Per esempio, io, quel cavolo di Cash Cow Channel che ho fatto, era un esempio. Ecco, questo video è necessario anche per farvi capire meglio i miei contenuti, perché voi confondete, voi pensate che quella roba lì è la cosa da fare, quello è un esempio, ok? Quello è un esempio, e avevo fatto un canale YouTube, ma solo per farvi vedere praticamente come creare un video, nella pratica, ma poi ci vuole la testa, ok? Perché bisogna creare video che sono interessanti, vi dovete un po' sbattere, dovete abbracciare la complessità, cercare di fare video belli, trovare un voice over, investire, è tutto questo che vi porterà i risultati, non la scorciatoia, prendo un testo qualsiasi, lo metto sul Lumen5, faccio il video, lo butto lì e chi se lo guarda? Se quel video non ha valore, dovete cercare di capire che cosa può interessare, cosa può aiutare, no? Facciamo un video che fa intrattenimento, o facciamo un video informativo, che poi la gente guarderà, ma deve essere fatto bene, deve dare valore, se no la gente non te lo guarda, deve essere fatto bene, la stessa cosa, vi ho fatto tutto un video anche per i libri Amazon, che vi ho detto come si vende, beh, la strategia per venderlo poi, per creare un libro che poi vende, è capire a monte, scegliere l'argomento, scegliere un problema che ha bisogno di una soluzione, fornire quella soluzione sotto forma di libro, ma vi dovete un attimo scervellare a capire bene di che cosa ha bisogno la gente, ok? Dovete abbracciare la complessità, non che prendete un libro qualsiasi, decidete, faccio un libro su, siccome la tendenza è l'intelligenza artificiale, allora faccio un libro su come guadagnare su CharGPT, che io ho fatto un sacco di esempi, ma anche lì si può fare però come guadagnare con CharGPT, andatevelo a vedere comunque il video su come vendere, ve lo metto qui nelle schede, comunque c'è la playlist CharGPT come guadagnare, c'è il corso su come creare un libro, proprio praticamente come scriverlo con l'intelligenza artificiale, poi come pubblicarlo e vi faccio vedere anche le vendite, perché poi se tu fai tutto bene, le vendite arrivano, ok? Ma se il tuo approccio è, devo fare il minimo sforzo e ottenere il massimo dei risultati, che per carità può essere condivisibile come filosofia, nel momento in cui ci sono però le condizioni affinché questo si verifichi, e tu sei sempre, devi essere sempre pronto a massimizzare i profitti, se ti capita un'occasione che con il minimo sforzo riesci a guadagnare tanto, abbracciala, vai, fallo, però di norma ti devi sforzare, non devi buttare via la prima cosa, cioè pensa con la testa, voglio scrivere un libro, questo libro deve fare delle vendite, e perché deve fare delle vendite? Come fa a fare delle vendite? Deve essere utile, deve risolvere il problema, vai a vedere qual è il problema, come lo posso scrivere, come si fa una descrizione? Affronta ogni singolo settore, ogni singola cosa che devi fare, con serietà, questo è l'approccio giusto, non cercando la scorciatoia, allora uno prova, allora, eh ho provato la cosa e non ha funzionato, ho provato quello e non ha funzionato, ragazzi vi svevo un segreto, i metodi di guadagno funzionano tutti, tutti, anche se vedete le sponsorizzazioni dove chi vuole promuovere un determinato metodo di guadagno sta, diciamo, denigrando gli altri, lo fa per vendere, ma in realtà, se tu ci metti impegno, ma impegno con la I maiuscola e anche tutte le altre lettere, impegno scritto gigantesco, e vai a vedere quali sono le difficoltà, e non cerchi la scorciatoia, mai le affronti, cerchi di capire come trovare, proprio ti impegni, allora voglio un libro che vende, un libro per esempio, restando nell'esempio del Amazon KDP, è un libro che deve essere almeno di 200 pagine per poterlo vendere anche a un prezzo superiore e poter marginare bene, quindi scrivo un libro di 200 pagine, due, trecento pagine, metto lì, lo faccio scrivere al CGPT, ok, però di che cosa parliamo? Andiamo a vedere di che argomento possiamo parlare, ok, c'è questo problema, ok, adesso lo risolvo, bene, come posso fare una copertina accattivante, la descrizione, come funziona? Mi vado a informare, vado a studiare, vado ad abbracciare la complessità, non cerco la prima cosa buttata lì, quindi questa è la prima regola, ok? Non cercate scorciatoio, eh ma è difficile, è lì, ma lì c'è l'opportunità, quando dite, eh, è difficile, allora lì ci sono i soldi, perché se voi fate la parte difficile, vi arriveranno i soldi, se voi invece fate quello che fanno tutti, ok? Allora metto l'annuncio su Fiverr, scrivo articoli del blog, perché per carità funziona anche quello, io l'ho dimostrato in questo canale YouTube, potete, eh, praticamente anche guadagnare soldi scrivendo articoli, però come si fa? All'inizio mettete prezzi bassissimi, iniziate a ricevere le prime recensioni, e magari ci vorrà del tempo prima di andare a regime, e praticamente vi siete posizionati su Fiverr, e quindi siete tra quelli, eh, tra i best seller, e quindi cominciate a vendere. Ci sarà un periodo in cui voi scriverete articoli, praticamente lavorerete gratis, solo per avere le recensioni, e allora però tante recensioni vi faranno rancare, e quindi nelle ricerche comparirete di più, e quindi magari poi la gente è soddisfatta, lascia le recensioni, è passato un anno, ma dopo un anno voi avete due, tre, quattro richieste al giorno, e avete il vostro business. Sì, è difficile, è chiaro, è difficile. Bene, affronta quel periodo di difficoltà, e poi otterrai i risultati, se no non arrivano, come quelli che io, è incredibile, con questo canale YouTube ho cercato di dimostrare che è possibile guadagnare, ok? Ma che per guadagnare con YouTube, anche se volete aprire un vostro canale, c'è un periodo di tempo dove non farete niente. Bene, e l'ho dimostrato, ho detto, ragazzi, guardate, è passato più di un anno, e adesso sto iniziando, ho fatto il video, quanto ho guadagnato con YouTube, tipo ad aprile, tipo 500 euro, però prima di guadagnare quei 500 euro ad aprile, per tutto il periodo precedente, questo canale l'ho aperto a marzo 2022, siamo a un anno e mezzo, non lo so, fate il calcolo, però la monetizzazione mi è arrivata dopo nove mesi, quindi io per nove mesi ho martellato, ho fatto video e non ho visto un euro. Poi dopo i nove mesi, il primo mese ho fatto 20 dollari, poi 80, e siamo arrivati a 500. Bene, c'è gente, ragazzi, che ha fatto il calcolo, delle ore, di quanto io ho fatto, ha calcolato il numero dei video fatti, ha detto, ha stimato che per fare un video di 20 minuti ci metti un'ora, quindi ha calcolato tutto il tempo, e ha scoperto che io per quello che ho guadagnato, ho guadagnato 50 centesimi l'ora, ora faccio un esempio e non mi ricordo, però per dirti quanto è malata la gente, ma che cosa stai calcolando la mia tariffa oraria, per poi giustificarsi e dire, no, è meglio che vado a fare, vado a lavorare con un lavoro normale da dipendente, ma sei scemo, cioè tu puoi, tu devi capire che è difficile, ma poi il risultato è migliore, perché magari lavori per un anno e mezzo, per un anno non guadagni niente, poi inizia a guadagnare ma è poco, ma dopo due anni, magari fai da un canale YouTube, fai 5.000 euro al mese, allora che fai, me li continui a calcolare il tempo che hai lavorato gratis, no, ti devi fare il mazzo, abbracciare la complessità, sudare, faticare, e poi i risultati arrivano, ma tu non puoi avere così, apro il canale YouTube e domani ho 5.000 euro al mese, no, e neanche devi stare a pensare, è che lo so, culturalmente la gente dice, vado a lavorare, questo è quanto guadagno, cioè queste sono le ore, questo è il guadagno, no, no, liberati da quella roba lì, perché ci sono molti più soldi in ballo, lavora gratis, ma almeno per te stesso, perché quante volte avete lavorato gratis per altri stage, sto sentendo delle robe assurde, se uno cerca lavoro nel 2023 stage, cioè, gente che lavora full time e gli fanno il contratto da stage, che probabilmente poi dopo prenderanno l'altro stagista, quindi quelli avranno pagato meno un personale, soprattutto per i lavori che sono fattibili praticamente da chiunque, che non richiedono grandi competenze, no, tu ti metti lì, se riesci a fare uno switch mentale, ad abbracciare la complessità, a capire che ti devi fare il mazzo, magari per un anno non fai niente, per due anni non fai niente, poi arrivano i risultati e poi è un crescendo, magari fai 3, 4, 5 mila euro al mese, poi fai 10 mila euro al mese, succede così nell'imprenditoria, si lavora, praticamente si investe il tempo, denaro e quant'altro, poi i risultati arriveranno in un futuro, ma ci devi credere, ti devi sforzare, ed è difficile, e quella è la parte difficile, supera la parte difficile, affronta tutto, i soldi arriveranno, se tu invece non vuoi affrontare, vuoi subito i soldi, oppure dici che è difficile, oppure hai un approccio in cui cerchi sempre la scorciatoia, non ti impegni, non fai le cose seriamente, non otterrai mai i risultati, quindi l'approccio giusto è abbracciare la complessità, l'approccio giusto poi è azione, e questa è un'altra cosa importante, dovete agire, la maggior parte di chi guarda i miei video, o la maggior parte possiamo estendere a tutti quelli che guardano i video su come guadagnare online, stanno guardando Netflix, sono video di intrattenimento, che per carità per noi creator va benissimo, perché noi monetizziamo, però sta nell'etica di ogni creator, poi comunque proporre cose che funzionano, e io propongo la mia esperienza, vi ho dato dei video migliori, con il contenuto migliore, voi non li avete visti, cioè sono quelli che sono visti minormente, non so più parlare, sono quelli che hanno, cioè c'è corsi su come creare poi cose concrete, creare il tuo business di infoprodotti, vendere consulenze, state invece magari i video migliori, sono quelli su Amazon KDP, perché il libro è scritto dall'intelligenza artificiale, quindi non faccio niente, poi Amazon me lo vende, io non faccio niente, non mi servono skill di niente, per carità funziona, perché ripeto, tutto funziona, ma ci vuole il giusto approccio, e ci vuole l'azione, cioè non è che li dovete soltanto guardare, poi dovete fare, ed è il momento in cui fate e fallite, bene, rifate, non che vi lamentate e dite che tutto non funziona, comprate corsi, e poi perché l'industria dei corsi, è un'industria profittevole, perché la gente compra il corso, e pensa che semplicemente comprando il corso, già si sente meglio, sente che sta facendo qualcosa, non hai fatto niente, va benissimo comprarti il corso, ma poi lo devi studiare, devi applicare, devi fallire, devi ricominciare, e devi abbracciare la complessità, e questo, questo, chi fa tutto questo, ha successo, chi supera periodi in cui non guadagna niente, ma continua e non demorde, alla fine arriva, chi molla, chi cerca scorciatoie, chi non abbraccia la complessità, è destinato a fallire, nel business come in tutti gli altri campi della vita, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, come sta andando il vostro business online, scrivetemelo nei commenti, che approccio avete secondo voi, se vi state impegnando oppure no, se siete scontenti, delusi, oppure state lucrando, come giusto che sia, per tutti quelli che, fanno le cose per bene, e abbracciano la complessità del business, e i momenti difficili, fatemi sapere nei commenti, se questo video vi ha ispirato, vi ha aiutato, vi ha motivato, ragazzi, iscrivetevi al canale, e commentate, così mi aiutate, e attivate anche la campanellina, per non perdervi i prossimi video, vi aspetto nei commenti, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!